Lezione 1. Elementi essenziali per il viaggio. Ciao Anna, sto programmando un viaggio e ho bisogno di qualche consiglio su cosa mettere in valigia. Ho sentito che è importante mettere in valigia scarpe comode da passeggio, un guardaroba versatile e una mappa. Cosa ne pensi? Ciao John. È un ottimo inizio. Imballare gli elementi essenziali giusti è fondamentale per un viaggio di successo. Discutiamo ogni articolo in dettaglio. Certo, iniziamo con scarpe comode da passeggio. Perché sono così importanti? Bene, scarpe comode da passeggio sono essenziali perché probabilmente farai molte esplorazioni e visite turistiche. Forniscono supporto e prevengono disagi o lesioni. Capisco. È importante dare la priorità al comfort nella scelta delle scarpe da passeggio. Che ne dici di un guardaroba versatile? Perché è necessario? Un guardaroba versatile consente di mescolare e abbinare diversi capi di abbigliamento, creando vari outfit con meno pezzi. Ciò consente di risparmiare spazio nel bagaglio e offre più opzioni durante il viaggio. Questo ha senso. Mi assicurerò di mettere in valigia capi di abbigliamento che possano essere facilmente mescolati e abbinati. Ora, che mi dici della mappa? È ancora necessaria in questa era digitale? Assolutamente. Sebbene le mappe digitali siano convenienti, avere una mappa fisica è comunque utile. Fornisce una panoramica più ampia dell'area, non si basa sulla durata della batteria e può essere utile in aree con connettività internet limitata. Non ci avevo pensato. Mi assicurerò di avere una mappa fisica come backup. Quali altri elementi essenziali consiglieresti per un viaggio? Oltre agli elementi essenziali di cui abbiamo discusso, è importante mettere in valigia articoli da toeletta, articoli da viaggio, tutti i farmaci necessari e qualche set di vestiti extra in caso di emergenze o situazioni impreviste. Buon punto. Farò una lista di controllo di tutti gli elementi essenziali e mi assicurerò di avere tutto ciò di cui ho bisogno prima del viaggio. Hai altri suggerimenti? Sì. È sempre una buona idea informarsi sulle condizioni meteorologiche e sulle usanze locali della destinazione. Questo ti aiuterà a fare le valigie in modo appropriato e a rispettare la cultura locale. Questo è un consiglio prezioso. Farò qualche ricerca in anticipo per assicurarmi di essere preparato per il clima e di potermi vestire in modo appropriato. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. Sono lieto di esserti stato utile. Ricordati di fare i bagagli leggeri, di fare attenzione alle eventuali restrizioni di viaggio e goditi il viaggio al massimo. Apprezzo la tua guida. Terrò a mente tutti i tuoi suggerimenti e ti auguro un viaggio fantastico. Grazie ancora per l'assistenza. È un piacere per me. Divertiti e crea ricordi duraturi. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Bon voyage! Grazie e ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriori informazioni. Abbi cura di te e ci sentiamo presto. Ciao Anna. Ho problemi a dormire ultimamente. Ho davvero bisogno di una buona notte di sonno. Qualche suggerimento? Ciao John. Comprendo l'importanza della qualità del sonno. Esaminiamo alcune strategie che potrebbero aiutarti a ottenere il riposo di cui hai bisogno. Sarebbe fantastico. Cosa posso fare per migliorare la qualità del sonno? Innanzitutto, stabilisci un programma di sonno coerente. Cerca di andare a letto e svegliarti alla stessa ora ogni giorno, anche nei fine settimana. Questo aiuta a regolare l'orologio interno del corpo. Capisco. La coerenza è fondamentale quando si tratta di dormire. Cos'altro posso fare? Crea una rilassante routine della buona notte. Intraprendi attività che ti aiutino a rilassarti, come leggere un libro, fare un bagno caldo o ascoltare musica rilassante. Evita gli schermi prima di andare a letto perché possono disturbare il sonno. Sembra una buona idea. Incorporerò una routine della buona notte nelle mie serate per preparare mente e corpo al sonno. Qualche altro suggerimento? Assicurati che l'ambiente in cui dormi sia favorevole al riposo. Mantieni la tua camera da letto fresca, buia e silenziosa. Prendi in considerazione l'uso di tappi per le orecchie, una mascherina per gli occhi o apparecchi a rumore bianco, se necessario. Per dormire è fondamentale. Farò le modifiche necessarie alla mia camera da letto per creare un ambiente ideale per dormire. Ci sono cambiamenti nello stile di vita che possono migliorare il sonno? Sì. È importante dare priorità all'attività fisica durante il giorno. L'esercizio fisico regolare può aiutare a favorire un sonno migliore. Tuttavia, evita un intenso esercizio fisico vicino all'ora di andare a letto in quanto può essere stimolante. Mi assicurerò di incorporare l'esercizio nella mia routine quotidiana, ma sarò consapevole dei tempi per evitare di interferire con il mio sonno. Che dire della caffeina e dell'assunzione di cibo? Limita l'assunzione di caffeina, soprattutto nel pomeriggio e alla sera. Può interferire con l'addormentarsi. Inoltre, evita pasti pesanti e cibi piccanti o acidi prima di andare a letto, poiché possono causare disagio. Sarò più consapevole del mio consumo di caffeina e delle mie scelte alimentari, soprattutto la sera. È importante dare al mio corpo abbastanza tempo per digerire prima di dormire. C'è altro che dovrei prendere in considerazione? Sì. Gestisci i livelli di stress prima di andare a dormire. Impegnati in tecniche di rilassamento come la respirazione profonda, la meditazione o lo stretching delicato. Aiuta a calmare la mente e a prepararsi al sonno. La gestione dello stress è fondamentale per una buona notte di sonno. Esplorerò diverse tecniche di rilassamento per trovare ciò che funziona meglio per me. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. Sono lieto di esserti stato utile. Ricordati di creare un ambiente confortevole per dormire, stabilire una routine per andare a dormire e dare priorità al relax. Ti auguro notti riposanti e mattine rinfrescanti. Apprezzo la tua guida. Implementerò queste strategie e farò del sonno una priorità. Non vedo l'ora di sentirmi riposata e ringiovanita. Grazie ancora per l'assistenza. È un piacere per me. Prenditi cura di te e goditi i benefici di un sonno di qualità. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Dormi bene. Grazie e ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriori informazioni. Abbi cura di te e ci sentiamo presto. Ciao Anna, ho esaminato il materiale che hai condiviso. È abbastanza informativo. Grazie per averlo fornito. Ciao John. Sono lieto che tu abbia trovato utile il materiale. Hai avuto la possibilità di esaminarlo a fondo. Sì, l'ho esaminato attentamente. Ci sono molte informazioni preziose da assorbire. È bello sentirlo. Ti sei imbattuto in concetti o idee specifici che ti hanno colpito. Assolutamente. Ho trovato particolarmente interessante la sezione sulle strategie di comunicazione efficaci. Ha evidenziato l'importanza dell'ascolto attivo e dell'espressione chiara. L'ascolto attivo e l'espressione chiara sono davvero fondamentali per una comunicazione efficace. Hai trovato suggerimenti o tecniche che puoi applicare al tuo stile di comunicazione? Sì, il materiale ha sottolineato l'importanza dei segnali non verbali, come il mantenimento del contatto visivo e l'uso di un linguaggio del corpo appropriato. Mi sono reso conto che potevo migliorare in quelle aree. Questa è un'ottima osservazione. I segnali non verbali svolgono un ruolo significativo nella comunicazione. Conoscerli può migliorare la consegna complessiva dei messaggi. Sicuramente. Mi incuriosisce anche la sezione sulle tecniche persuasive. Ha fornito alcune strategie pratiche per influenzare gli altri attraverso la comunicazione. Le tecniche persuasive possono essere strumenti potenti se utilizzate in modo etico e responsabile. Hai trovato delle tecniche specifiche che hanno attirato la tua attenzione? Sì, il materiale ha discusso l'importanza di creare credibilità, fare appello alle emozioni e fornire prove evidenti a sostegno delle argomentazioni. Mi ha dato una comprensione più profonda della comunicazione persuasiva. Questi sono davvero elementi essenziali di una comunicazione persuasiva. Padroneggiarli può aiutarti a trasmettere le tue idee in modo più efficace. Il materiale riguardava altri argomenti interessanti. Ha anche toccato l'importanza della sensibilità culturale nella comunicazione. Ha sottolineato la necessità di rispettare e comprendere le diverse prospettive culturali. La sensibilità culturale è fondamentale nel nostro mondo sempre più diversificato. È fondamentale essere consapevoli delle differenze culturali e adattare la nostra comunicazione di conseguenza. Hai trovato suggerimenti specifici per promuovere la sensibilità culturale? Sì, il materiale suggeriva di cercare di comprendere le diverse norme culturali, di essere aperti all'apprendimento dagli altri ed evitare supposizioni o stereotipi. Ha fornito misure pratiche per promuovere la comprensione culturale. Questi sono ottimi suggerimenti. Abbracciare la diversità culturale arricchisce le nostre esperienze di comunicazione. È fantastico che il materiale abbia affrontato questo importante aspetto. Assolutamente. Nel complesso, ho trovato il materiale completo e coinvolgente. Ha coperto vari aspetti della comunicazione che sono preziosi per lo sviluppo personale e professionale. Sono felice di sentirlo. È importante sviluppare continuamente le nostre capacità comunicative. Se hai ulteriori domande o desideri discutere argomenti specifici in modo più dettagliato, non esitare a contattarci. Grazie apprezzo la tua disponibilità ad aiutare. Potrei avere qualche domanda più tardi. Mi metterò sicuramente in contatto. Grazie ancora per aver condiviso il materiale con me. Siete i benvenuti. Sono sempre qui per aiutarti. Prenditi il tuo tempo per elaborare le informazioni e non esitare a chiedere se hai bisogno di chiarimenti. Buon apprendimento! Lo farò. Grazie sfrutterò al massimo il materiale e mi impegnerò per migliorare le mie capacità comunicative. Ci sentiamo presto. Sembra fantastico. Buona fortuna per il tuo percorso di apprendimento. Attendo con ansia la nostra prossima conversazione. Abbi cura di te! Anche tu! Abbi cura di te e buona giornata! Salve Anna! Ho analizzato i dati di mercato e credo che la nostra espansione di mercato avrà successo. Ciao John! È bello sentirlo. Ho anche esaminato le tendenze del mercato e sono lieto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Parliamo della nostra strategia. Assolutamente. Per iniziare, dobbiamo identificare il nostro pubblico di riferimento. Quali sono i potenziali clienti che vogliamo raggiungere? Questo è un passaggio cruciale. Dobbiamo definire il nostro pubblico di riferimento in base a dati demografici, interessi ed esigenze. Ci aiuterà a personalizzare in modo efficace i nostri sforzi di marketing. Esattamente. Una volta definito il nostro pubblico di riferimento, possiamo sviluppare una proposta di valore convincente. Quali vantaggi unici offrirà il nostro prodotto ai clienti? Buon punto! La nostra proposta di valore dovrebbe comunicare chiaramente i vantaggi offerti dal nostro prodotto, come risparmi sui costi, convenienza o qualità superiore. Ci differenzierà dalla concorrenza. Concordato. Successivamente, dovremmo determinare i canali di marketing più efficaci per raggiungere il nostro pubblico di destinazione. Quali piattaforme o mezzi ci consentiranno di connetterci con loro? Questo è fondamentale per un'espansione di mercato di successo. Dobbiamo ricercare quali canali utilizza maggiormente il nostro pubblico di destinazione, che si tratti di social media, pubblicità online o media tradizionali. Assolutamente. Dovremmo anche prendere in considerazione partnership e collaborazioni con influencer o aziende complementari. Il loro supporto può aumentare la visibilità e la credibilità del nostro marchio. Le collaborazioni possono davvero amplificare la nostra portata. Interagire con influencer o stringere alleanze strategiche può aiutarci ad accedere a nuovi segmenti di clienti ed espandere la nostra quota di mercato. Sono lieto che tu veda il valore delle collaborazioni. Ora, parliamo dell'importanza del feedback dei clienti e del miglioramento continuo. Come possiamo raccogliere feedback e apportare le modifiche necessarie? Il feedback dei clienti è fondamentale per perfezionare le nostre offerte. Possiamo utilizzare sondaggi, recensioni dei clienti e monitoraggio dei social media per raccogliere informazioni. Quindi, possiamo analizzare il feedback e implementare miglioramenti. Assolutamente. Ascoltando le esigenze dei nostri clienti e rispondendo alle loro preoccupazioni, possiamo migliorare continuamente i nostri prodotti e servizi. Rafforzerà la nostra posizione sul mercato. Il miglioramento continuo è fondamentale per rimanere competitivi. Dimostra il nostro impegno a fornire valore e garantisce che soddisfiamo le aspettative in continua evoluzione dei clienti. Sicuramente. Infine, dovremmo monitorare e misurare i nostri sforzi di espansione del mercato. Quali indicatori chiave di performance dovremmo monitorare per valutare i nostri progressi? Gli indicatori chiave di prestazione KPI possono variare a seconda dei nostri obiettivi. Possiamo monitorare metriche come la crescita delle vendite, il tasso di acquisizione dei clienti e la quota di mercato per valutare il nostro successo. Questo ha senso. Monitorando regolarmente i nostri KPI, possiamo identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare la nostra strategia di espansione del mercato. Precisamente. Il monitoraggio e l'analisi continui ci consentiranno di adattare e perfezionare il nostro approccio in base alle necessità. Ci assicura di rimanere agili in un mercato dinamico. Sono lieto che siamo allineati sulla nostra strategia di espansione del mercato. Con un'attenta pianificazione, una comunicazione efficace e un approccio incentrato sul cliente, credo che possiamo ottenere un grande successo. Condivido il tuo ottimismo. Con i nostri sforzi combinati e una strategia ben eseguita, sono fiducioso nella nostra capacità di cogliere nuove opportunità di mercato. Facciamo in modo che accada. Assolutamente. Insieme, possiamo conquistare nuovi mercati e promuovere la crescita del nostro business. Sono entusiasta delle possibilità. Cominciamo. Grande entusiasmo. Immergiamoci e facciamo della nostra espansione sul mercato un successo clamoroso. Attendo con impazienza i nostri prossimi passi. Buona fortuna. Grazie, apprezzo il tuo supporto. Rimaniamo in contatto e aggiorniamoci a vicenda sui nostri progressi. Ci sentiamo presto. Lezione 5. Dividere la tariffa del taxi. Ciao Anna, mi sono appena accorto di aver dimenticato il portafoglio a casa. Puoi pagare il taxi? Ciao John. Nessun problema, posso coprire la tariffa del taxi. Possiamo dividerlo più tardi. Quanto costa la tariffa? Grazie. La tariffa è di 25 dollari. Apprezzo il tuo aiuto. Siete i benvenuti. Lo pagherò adesso. Possiamo saldare l'importo più tardi. È importante aiutarsi a vicenda in momenti come questi. Sono d'accordo, è bello avere qualcuno su cui contare. Mi assicurerò di rimborsarti non appena torneremo. È molto gentile da parte tua. Abbiamo una buona comprensione e fiducia tra di noi. È essenziale in qualsiasi amicizia o collaborazione. Assolutamente. La fiducia è il fondamento di relazioni solide. Ci consente di fare affidamento l'uno sull'altro e di affrontare insieme situazioni difficili. Non potrei essere più d'accordo. È anche importante comunicare apertamente e affrontare tempestivamente qualsiasi questione finanziaria. In questo modo, manteniamo la trasparenza ed evitiamo malintesi. Hai ragione. Una comunicazione chiara è fondamentale, soprattutto quando si tratta di transazioni finanziarie. Ci aiuta a mantenere una relazione sana ed equilibrata. Effettivamente. Prendiamo nota mentalmente della tariffa del taxi e possiamo saldarla più tardi. È un piccolo inconveniente nel grande schema delle cose. Assolutamente. Apprezzo la tua comprensione. Non è affatto un problema. La vita è piena di sorprese ed essere flessibili e adattabili è una caratteristica preziosa. Siamo in grado di gestire questa situazione con facilità. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Grazie ancora per aver coperto la tariffa del taxi. Mi assicurerò di rimborsarti il prima possibile. Siete i benvenuti. Confido che te ne occuperai. Siamo una squadra e si tratta solo di sostenerci a vicenda quando necessario. Sicuramente. Apprezzo la nostra collaborazione e amicizia. Siamo in grado di gestire qualsiasi sfida che ci si presenta. Mi assicurerò di saldare l'importo prontamente. Apprezzo la tua affidabilità. È un piacere lavorare e collaborare con qualcuno come te. Continuiamo a sostenerci a vicenda e a fare grandi cose insieme. Allo stesso modo. La nostra sinergia è ciò che ci rende forti. Attendo con impazienza i nostri sforzi futuri. Grazie ancora per la comprensione e il supporto. Non è affatto un problema. Ci sosteniamo a vicenda. Continuiamo ad andare avanti e a conquistare nuove vette. Ci sentiamo presto. Assolutamente. Ci attendono tempi entusiasmanti. Rimaniamo connessi e manteniamo lo slancio. Abbi cura di te e ci sentiamo presto. Ciao Anna. Ho appena fatto una colazione deliziosa e nutriente. È bello iniziare la giornata con una nota positiva. Ciao John. È fantastico. La colazione è davvero un pasto importante. Cosa hai mangiato? Ho mangiato una ciotola di farina d'avena condita con frutta fresca e un contorno di yogurt. Era una combinazione perfetta di sapore e nutrimento. Sembra delizioso. La farina d'avena è un'ottima scelta per una sana colazione. Fornisce energia e ti mantiene pieno più a lungo. Assolutamente. È un'ottima fonte di carboidrati complessi e fibre. Inoltre, i frutti hanno aggiunto un rinfrescante tocco di dolcezza. Sono contenta che tu abbia incluso della frutta. Sono ricchi di vitamine e antiossidanti, essenziali per un sistema immunitario forte e per il benessere generale. Sicuramente. Mi impegno a incorporare frutta nei miei pasti ogni volta che è possibile. È un modo semplice per aumentare il mio apporto di nutrienti. È un'abitudine intelligente. Segui una dieta o un piano alimentare specifico o ti concentri su pasti equilibrati e sani. Do priorità ai pasti bilanciati. Il mio obiettivo è includere una varietà di gruppi alimentari, proteine, cereali integrali, frutta, verdura, per assicurarmi di assumere tutti i nutrienti necessari. Questo è un approccio saggio. La varietà è fondamentale per una dieta nutriente. Ti assicura di ricevere un'ampia gamma di vitamine, minerali e macronutrienti. Assolutamente. Credo nel nutrire il mio corpo con cibi sani. Mi aiuta a mantenere i livelli di energia e sostiene la mia salute generale. Non potrei essere più d'accordo. È importante ascoltare il nostro corpo e nutrirlo con i cibi giusti. È una forma di cura e rispetto di sé. Ben detto. I nostri corpi sono la nostra risorsa più preziosa e prendersene cura dovrebbe essere una priorità assoluta. La colazione dà il tono alla giornata. Non potrei essere più d'accordo. È un'abitudine che vale la pena coltivare. Iniziare la giornata con una colazione nutriente ci aiuta a fare scelte più salutari durante la giornata. Esattamente. Quando ci nutriamo al mattino, è meno probabile che mangiamo spuntini non salutari o che ne esageriamo più tardi. Questo è un vantaggio significativo. Una colazione equilibrata può contribuire alla gestione del peso e a abitudini alimentari sane in generale. Assolutamente. Si tratta solo di fare piccole scelte positive che si sommano nel tempo. La colazione è una di quelle scelte che possono fare una grande differenza. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Continuiamo a dare priorità alla nostra colazione e a ispirare gli altri a fare lo stesso. È un piccolo cambiamento che può avere un grande impatto. Sicuramente. Piccoli cambiamenti portano a grandi trasformazioni. Diffondiamo l'importanza di abitudini salutari per la colazione e responsabilizziamo gli altri a farsi carico del proprio benessere. Adoro il tuo entusiasmo. Insieme possiamo avere un impatto positivo e incoraggiare gli altri a fare scelte più salutari. Manteniamo lo slancio. Assolutamente. Il viaggio verso uno stile di vita più sano inizia con piccoli passi. Grazie per la conversazione approfondita. Continuiamo la nostra ricerca del benessere. Grazie anche a te. Apprezzo le nostre discussioni significative. Rimaniamo in contatto e continuiamo a sostenerci a vicenda in questo viaggio. Abbi cura di te. Anche tu. Abbi cura di te e ti auguro una fantastica giornata. Lezione 7 Esplorazione con gli autobus Ciao Anna, hai mai pensato di usare gli autobus come mezzo di trasporto alternativo? Possono essere una buona opzione, soprattutto se vuoi esplorare aree specifiche. Ciao John. Assolutamente gli autobus possono essere un modo comodo ed economico per spostarsi. Offrono flessibilità e l'opportunità di scoprire nuovi posti. Giusto. Gli autobus hanno spesso percorsi stessi che ci consentono di raggiungere destinazioni che potrebbero non essere facilmente accessibili con altri mezzi di trasporto. Sono completamente d'accordo. Offrono una grande opportunità per esplorare diversi quartieri e immergerci nella cultura locale. Sicuramente. Anche prendere un autobus può essere un'avventura in sé. Possiamo vedere la città da una prospettiva diversa e assistere alla vita quotidiana dei suoi abitanti. È affascinante. Gli autobus possono portarci in luoghi fuori dai sentieri battuti, dandoci la possibilità di scoprire gemme nascoste e vivere autentici ambienti locali. Assolutamente. Inoltre, l'uso dei mezzi pubblici come gli autobus è più sostenibile ed ecologico rispetto ai veicoli privati. Questo è un punto significativo. Scegliendo gli autobus, contribuiamo a ridurre la congestione del traffico e a ridurre le emissioni di carbonio. Precisamente. È un piccolo passo verso un futuro più verde e sostenibile. Ed è un vantaggio che possiamo risparmiare sul carburante e sulle tariffe di parcheggio. Non potrei essere più d'accordo. Gli autobus possono essere una situazione vantaggiosa per tutti, vantaggiosa sia per l'ambiente che per i nostri portafogli. Esattamente. Si tratta di fare scelte consapevoli che siano in linea con i nostri valori e abbiano un impatto positivo su ciò che ci circonda. Adoro il tuo punto di vista. Esplorare con gli autobus non solo amplia i nostri orizzonti, ma ci permette anche di fare la differenza nelle nostre comunità. Grazie per me è importante vivere in armonia con l'ambiente e fare scelte che contribuiscano al bene comune. Ammiro il tuo impegno. Incoraggiamo gli altri a considerare l'uso degli autobus come valida opzione per le loro esigenze di trasporto. È un'opportunità di avventura e sostenibilità. Assolutamente. Diffondiamo la notizia ed evidenziamo i vantaggi dei viaggi in autobus. È un invito a esplorare, connettersi e avere un impatto positivo. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Insieme, possiamo creare consapevolezza e ispirare gli altri ad abbracciare modalità di trasporto alternative. Sicuramente. Tutto inizia con piccole conversazioni che suscitano curiosità e stimolano il cambiamento. Grazie per questa discussione approfondita. Lezione 8 Abbracciare la critica costruttiva Ciao Anna, credo che le critiche costruttive siano fondamentali per la crescita personale e di squadra. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Ciao John, sono completamente d'accordo. Le critiche costruttive forniscono un feedback prezioso che ci aiuta a migliorare individualmente e come squadra. Giusto. Ci consente di identificare le aree di sviluppo e affinare le nostre competenze, portando in ultima analisi a prestazioni migliori. Assolutamente. Le critiche costruttive, se formulate con rispetto ed empatia, possono essere un catalizzatore per un cambiamento e un apprendimento positivi. Precisamente. È importante considerare le critiche come un'opportunità di crescita piuttosto che come un attacco personale. non potrei essere più d'accordo. Accettando le critiche costruttive, dimostriamo la nostra volontà di imparare ed evolverci. Esattamente. Ci vogliono umiltà e apertura mentale per accettare il feedback e usarlo a nostro vantaggio. Adoro il tuo punto di vista. Le critiche costruttive possono essere un potente strumento per il miglioramento personale e lo sviluppo professionale. Grazie. È importante creare una cultura in cui il feedback sia apprezzato e visto come un mezzo per migliorare le nostre capacità e prestazioni. Ammiro il tuo impegno. Incoraggiamo gli altri ad apprezzare e utilizzare le critiche costruttive nella loro vita personale e professionale. Assolutamente. Si tratta di promuovere una mentalità di crescita e creare un ambiente in cui il feedback sia visto come un'opportunità, non una battuta d'arresto. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Insieme, possiamo costruire team più forti e sostenere e sostenere la crescita reciproca attraverso critiche costruttive. Sicuramente. È tutta una questione di collaborazione e di rafforzamento reciproco. Le critiche costruttive ci aiutano a raggiungere il nostro pieno potenziale. è autorizzante. Quando riceviamo feedback con una mente aperta, sblocchiamo nuove possibilità e ci spingiamo verso nuove vette. Precisamente. Le critiche costruttive alimentano il nostro sviluppo personale e professionale, consentendoci di diventare la versione migliore di noi stessi. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo ad accettare critiche costruttive e incoraggiamo gli altri a fare lo stesso. È un percorso verso il miglioramento continuo. Assolutamente. Insieme, possiamo creare una cultura che valorizzi il feedback e celebri la crescita. Grazie per questa discussione approfondita. Grazie anche a te. Apprezzo sempre le nostre conversazioni. Continuiamo a imparare e crescere insieme. Abbi cura di te. Anche tu. Abbi cura di te e ti auguro una fantastica giornata. Lezione 9 Svelare le fragranze per la casa Salve Anna, sono curiosa di sapere dove possiamo trovare queste accattivanti fragranze per la casa. Qualche idea? Ciao John. Assolutamente sì. lasciatemi condividere alcuni approfondimenti. Puoi scoprire questi deliziosi profumi in vari luoghi. Questo è intrigante. Quale sarebbe un buon punto di partenza per esplorare queste fragranze? Puoi iniziare visitando boutique di fragranze specializzate o grandi magazzini di fascia alta. Offrono una vasta gamma di profumi di lusso. Sembra un'ottima opzione. Che ne dite di luoghi più accessibili per chi ha un budget limitato? Bene, sono disponibili anche opzioni convenienti. I mercati locali o le piattaforme online hanno spesso fragranze per la casa uniche ed economiche. Questo è buono a sapersi. È fantastico che ci siano opzioni per tutti indipendentemente dal budget. Assolutamente. I negozi di articoli per la casa o anche alcuni supermercati potrebbero sorprenderti con la loro selezione di fragranze. Questo è interessante. Non avrei mai pensato di dare un'occhiata lì. Dimostra che possiamo trovare ispirazione in luoghi inaspettati. Sicuramente. L'esplorazione di diverse fonti ci permette di scoprire gemme nascoste ed espandere i nostri orizzonti olfattivi. sono d'accordo e affascinante come i profumi possano suscitare emozioni e creare un'atmosfera accogliente nelle nostre case. Assolutamente. Le fragranze hanno il potere di trasformare uno spazio e renderlo più invitante e confortevole. Questo è vero. È incredibile come un semplice profumo possa avere un impatto così profondo sul nostro umore e sul nostro benessere. Precisamente. Ecco perché è importante scegliere fragranze che risuonino con noi e creino un'atmosfera positiva. Non potrei essere più d'accordo. È una preferenza personale che ci permette di esprimere la nostra individualità e creare un ambiente unico. Sicuramente. Sperimentare diverse fragranze può essere un processo divertente e creativo che aggiunge un tocco personale alle nostre case. Meraviglioso. È un'opportunità per esplorare i nostri sensi e creare uno spazio che rifletta veramente la nostra personalità. adoro il tuo punto di vista. Incoraggiamo gli altri ad abbracciare il potere delle fragranze per la casa e a rendere i loro spazi davvero incantevoli. Assolutamente. È un viaggio sensoriale che migliora la nostra vita quotidiana e porta gioia nelle nostre case. Grazie per questa discussione approfondita. Lezione 10 Personalizzazione dei pasti con richieste anticipate Salve Anna. Per quanto riguarda i pasti, è bello sapere che possiamo fare richieste specifiche in anticipo. Come dovremmo procedere? Ciao John. Assolutamente ci impegniamo a soddisfare le preferenze individuali, quindi fateci sapere le vostre richieste specifiche. È fantastico. Quindi, se qualcuno ha restrizioni dietetiche o allergie, può informarci in anticipo? Sì, sicuramente. Condividendo in anticipo eventuali restrizioni dietetiche o allergie, possiamo garantire un'esperienza culinaria sicura e piacevole. Questo è importante. Ci consente di soddisfare le loro esigenze e fornire alternative o modifiche adeguate. Assolutamente. Vogliamo che tutti si sentano a proprio agio e soddisfatti delle proprie scelte alimentari. È bello sentirlo. Che dire delle preferenze speciali come le opzioni vegetariane o vegane? Offriamo assolutamente opzioni vegetariane e vegane. Per noi è utile saperlo in anticipo, così possiamo prepararci di conseguenza. Meraviglioso. È importante fornire una vasta gamma di scelte per le diverse preferenze alimentari. Sicuramente. Vogliamo assicurarci che tutti possano trovare qualcosa di piacevole e che li faccia sentire bene. È premuroso. Accettando le richieste anticipate, possiamo creare un'esperienza culinaria che soddisfi le esigenze individuali. assolutamente. Si tratta di offrire un servizio personalizzato e rendere speciale ogni esperienza culinaria. È bello saperlo. Con quanto anticipo qualcuno dovrebbe informarci sulle sue richieste specifiche? È meglio informarci con almeno 24 ore di anticipo, concedendoci abbastanza tempo per preparare e soddisfare le richieste. È ragionevole. Ci dà tutto il tempo per prendere le disposizioni necessarie e offrire un'esperienza culinaria eccezionale. Precisamente. Vogliamo assicurarci che le esigenze di tutti siano soddisfatte e che abbiano un'esperienza culinaria memorabile. non potrei essere più d'accordo. Essendo proattivi e comunicando le loro richieste, gli ospiti possono avere un pasto davvero personalizzato. Sicuramente. Si tratta di creare un ambiente accogliente e inclusivo in cui le esigenze di tutti siano rispettate e soddisfatte. meraviglioso. Continuiamo a dare priorità alle richieste anticipate e a offrire esperienze culinarie eccezionali per i nostri ospiti. Assolutamente. È un impegno a fornire un servizio eccezionale e a garantire che tutti se ne vadano soddisfatti. Grazie per questa discussione approfondita. Grazie anche a te. Apprezzo sempre le nostre conversazioni. Continuiamo a creare esperienze culinarie memorabili. Abbi cura di te. Lezione 11 Composizione accattivante con la regola dei terzi Ciao Anna, quando si parla di fotografia, ho sentito parlare della regola dei terzi. Dovremmo fare un tentativo? Ciao John. Assolutamente la regola dei terzi è un'ottima tecnica per aggiungere equilibrio e interesse alle tue composizioni. Sembra intrigante. Come funziona la regola dei terzi? Bene, invece di posizionare il soggetto proprio al centro dell'inquadratura, dividi l'immagine in terzi sia in orizzontale che in verticale. Questo è interessante. Quindi, dove dovremmo posizionare l'argomento all'interno di queste griglie? Idealmente, si desidera posizionare il soggetto lungo uno dei punti di intersezione o lungo le linee stesse. Questo è affascinante. Sembra che questa tecnica possa creare una composizione più dinamica e visivamente accattivante. Assolutamente. Seguendo la regola dei terzi, puoi conferire equilibrio, profondità e un senso di movimento alle tue foto. è fantastico. È un concetto semplice ma potente che può fare una differenza significativa nella composizione generale. Sicuramente. È una regola che molti fotografi seguono per creare immagini avvincenti e coinvolgenti. È bello saperlo. Ci sono altre tecniche di composizione che possiamo esplorare? Assolutamente. Esistono varie tecniche come linee guida, inquadratura e simmetria che possono migliorare le tue composizioni. Meraviglioso. È emozionante conoscere queste tecniche e applicarle alla nostra fotografia. Sicuramente. Sperimentare diverse tecniche di composizione ci consente di superare i nostri limiti creativi e catturare scatti unici. Questo è vero. Si tratta di esplorare diverse prospettive e trovare la nostra voce artistica. precisamente. La fotografia è una forma di espressione personale e le tecniche di composizione ci aiutano a trasmettere la nostra visione in modo efficace. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo a esercitarci e a perfezionare le nostre composizioni usando queste tecniche entusiasmanti. Assolutamente. Incorporando queste tecniche nella nostra fotografia possiamo creare immagini visivamente accattivanti. Grazie per questa discussione approfondita. Grazie anche a te. Mi piacciono sempre le nostre conversazioni. Continuiamo a esplorare il mondo della fotografia e ad affinare le nostre capacità. Abbi cura di te. lezione 12 Imballaggio per il viaggio. Ciao Anna, mi sto preparando per il mio prossimo viaggio. Hai qualche consiglio per imballare in modo efficiente? Ciao John. Assolutamente imballare in modo efficiente può rendere la tua esperienza di viaggio molto più fluida. quanti bagagli hai intenzione di portare? Una sola valigia e un bagaglio a mano dovrebbero bastarmi. Voglio mantenerlo leggero e comodo. questa è una buona strategia. È importante imballare solo ciò di cui hai bisogno per evitare ingombri inutili. Sicuramente. Quindi, cosa devo considerare quando decido cosa mettere in valigia? Innanzitutto, pensa al clima e alle attività della tua destinazione. Prepara abiti adatti alle intemperie e versatili per diverse occasioni. Questo ha senso. Mi assicurerò di mettere in valigia un abbigliamento adeguato al clima e alle attività specifiche che ho pianificato. ottimo. Un altro consiglio è quello di arrotolare i vestiti invece di piegarli. Risparmia spazio e riduce al minimo le rughe. Questo è un trucco utile. Ci proverò sicuramente per massimizzare lo spazio nella mia valigia. Inoltre, considera le restrizioni di peso e dimensioni della compagnia aerea con cui viaggi per il tuo bagaglio a mano. Buon punto. È fondamentale attenersi alle linee guida della compagnia aerea per evitare problemi durante il check-in o l'imbarco. Assolutamente. E non dimenticare di mettere nel bagaglio a mano gli articoli da toiletta essenziali e tutti i farmaci necessari. Sì, è sicuramente importante averli facilmente accessibili, soprattutto durante i voli lunghi. Mi assicurerò di imballarli separatamente. Ottimo! Infine, ricordati di lasciare un po' di spazio nella valigia per eventuali souvenir o oggetti che potresti acquistare durante il viaggio. Questo è un consiglio intelligente. Lascia spazio alla flessibilità ed evita che la valigia diventi troppo stretta. Esattamente! Fare le valigie in modo efficiente non solo facilita il viaggio, ma ti dà anche la massima tranquillità durante il viaggio. Non potrei essere più d'accordo. Apprezzo tutti questi utili consigli per l'imballaggio. Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Lezione 13 Organizzazione di uno spazio di lavoro produttivo. Ciao Anna, faccio fatica a rimanere concentrata mentre lavoro. Hai qualche suggerimento per creare uno spazio di lavoro produttivo? Ciao John, assolutamente uno spazio di lavoro ben organizzato può migliorare notevolmente la produttività. Quali sono alcune sfide specifiche che stai affrontando? Mi ritrovo facilmente distratto dal disordine e dalla disorganizzazione. È difficile concentrarsi con una scrivania disordinata. Mi suona familiare. Un consiglio è quello di creare uno spazio di lavoro dedicato privo di distrazioni. Trova un'area tranquilla in cui concentrarti. Sembra utile. Ci proverò e designerò un posto specifico esclusivamente per il lavoro per ridurre al minimo le distrazioni. È un'ottima idea. Un altro consiglio è quello di riordinare regolarmente la scrivania. Tieni a portata di mano solo gli oggetti essenziali per evitare distrazioni inutili. Ne vedo il valore. Rimuovere gli oggetti non necessari mi aiuterà a mantenere una mentalità chiara e concentrata. Assolutamente. Inoltre, prendi in considerazione l'utilizzo di organizzatori come vassoi o contenitori per tenere le tue forniture ben disposte e facilmente accessibili. Questo è un suggerimento pratico. Avere spazi designati per oggetti diversi farà risparmiare tempo e impedirà l'accumulo di disordine. Effettivamente. Un'altra pratica utile è stabilire una routine quotidiana. Stabilisci orari di lavoro specifici e rispettali per creare un senso di struttura. Comprendo l'importanza di una routine costante. Aiuta a stabilire un ritmo di lavoro produttivo e previene la procrastinazione. Esattamente. Inoltre, assicurati che il tuo spazio di lavoro sia ben illuminato. La luce naturale o una buona lampada da scrivania possono migliorare la concentrazione e ridurre l'affaticamento degli occhi. Buon punto. Un'illuminazione adeguata è fondamentale per mantenere energia e concentrazione durante il giorno. Infine, considera l'idea di incorporare le piante nel tuo spazio di lavoro. Non solo aggiungono un tocco di natura, ma contribuiscono anche a creare un ambiente più positivo e rilassante. Questo è un suggerimento interessante. Non ho mai pensato ai vantaggi di avere delle piante nel mio spazio di lavoro. Ci proverò sicuramente. Mi fa piacere che lo trovi intrigante. Le piante possono migliorare l'atmosfera generale e creare un'atmosfera di lavoro più piacevole. grazie per aver condiviso questi preziosi consigli. Non vedo l'ora di implementarli e creare uno spazio di lavoro più produttivo. Lezione 14 Sicurezza durante l'evacuazione Salve Anna, ho sentito che potrebbe esserci un'evacuazione nella nostra zona. Cosa dobbiamo tenere a mente per stare al sicuro? Ciao John. La sicurezza è fondamentale durante l'evacuazione. Una cosa importante è essere consapevoli di eventuali ostacoli sul nostro cammino. Questo è un buon punto. Dobbiamo tenere d'occhio eventuali oggetti o barriere che potrebbero ostacolare la nostra evacuazione. Assolutamente. percorsi chiari assicurano un'uscita agevole ed efficiente dall'area. Sembra utile. Mi assicurerò di essere vigile e di rimuovere eventuali ostacoli se possibile. Un altro consiglio è quello di avere pronto un kit di emergenza con forniture essenziali come acqua, cibo e articoli di primo soccorso. È un'idea intelligente. Avere un kit di emergenza dedicato ci assicura di avere le provviste necessarie durante l'evacuazione. Sicuramente. È anche importante seguire le istruzioni o le indicazioni fornite dalle autorità durante l'evacuazione. Sì, dobbiamo rimanere informati e seguire le loro indicazioni per garantire la nostra sicurezza e quella degli altri. Inoltre, è fondamentale avere un punto di incontro designato o un piano nel caso in cui ci separiamo gli uni dagli altri. Una buona idea. Un punto di incontro predeterminato ci aiuta a riunirci e a rendere conto di tutti i membri del nostro gruppo. Assolutamente. infine mantieni la calma e aiuta coloro che potrebbero aver bisogno di assistenza come gli anziani o le persone con disabilità. È un approccio compassionevole. Sostenersi a vicenda in tali situazioni è essenziale per il benessere di tutti. Sicuramente preparandoci e prendendoci cura gli uni degli altri possiamo affrontare l'evacuazione con successo. Apprezzo questi preziosi consigli. La sicurezza dovrebbe sempre essere la nostra massima priorità in ogni situazione di emergenza. Hai assolutamente ragione. Rimaniamo preparati, al sicuro e pronti ad aiutare gli altri ogni volta che è necessario. Parole sagge. Grazie per aver condiviso queste importanti informazioni. Assicuriamoci di essere ben preparati per qualsiasi situazione imprevista. Lezione 15 Riciclaggio Bottiglie Vetro o Plastica Ciao Anna, mi stavo chiedendo del riciclaggio. Ok, che mi dici delle bottiglie? dovremmo riciclare il vetro o la plastica? Ciao John, il riciclaggio è importante per la sostenibilità ambientale. Parliamo di bottiglie. Il vetro e la plastica hanno entrambi i loro vantaggi. Questo è interessante. Quali sono i vantaggi del riciclaggio delle bottiglie di vetro? Ebbene, le bottiglie di vetro possono essere riciclate all'infinito senza perdere la loro qualità. Inoltre, non sono tossici e non rilasciano sostanze chimiche nocive. È impressionante. Quindi, riciclare le bottiglie di vetro aiuta a ridurre gli sprechi e minimizzare l'impatto ambientale. assolutamente. D'altra parte, le bottiglie di plastica sono leggere e più efficienti dal punto di vista energetico da trasportare grazie al loro peso più leggero. Capisco. Quindi, riciclare le bottiglie di plastica può aiutare a ridurre le emissioni di carbonio durante il trasporto. Sì, è corretto. inoltre, le bottiglie di plastica possono essere riciclate in una varietà di prodotti come abbigliamento, mobili e materiali di imballaggio. Questo è affascinante. Il riciclaggio delle bottiglie di plastica contribuisce all'economia circolare dando loro nuova vita in diverse forme. Sicuramente. Tuttavia, è importante notare che non tutte le bottiglie di plastica sono facilmente riciclabili. Alcuni tipi, come quelli etichettati con il numero 1 o 2, sono più comunemente accettati per il riciclaggio. Capisco. Quindi, è fondamentale controllare le linee guida sul riciclaggio e assicurarsi di riciclare i giusti tipi di bottiglie di plastica. assolutamente. Seguire le linee guida sul riciclaggio aiuta a migliorare l'efficienza del processo di riciclaggio. Questo ha senso. Riciclando le bottiglie, siano esse di vetro o di plastica, partecipiamo attivamente alla riduzione degli sprechi e alla conservazione delle risorse. assolutamente. È essenziale scegliere alternative riutilizzabili quando possibile per ridurre ulteriormente la necessità di bottiglie monouso. Questo è un ottimo punto. Utilizzando bottiglie riutilizzabili, possiamo ridurre al minimo gli sprechi e avere un impatto positivo sull'ambiente. Esattamente. Piccole azioni come il riciclaggio e la scelta di opzioni riutilizzabili fanno collettivamente una differenza significativa. Apprezzo questa discussione approfondita. È motivante sapere come possiamo contribuire a un futuro più verde. Siete i benvenuti. sono lieto che tu l'abbia trovato stimolante. Ricorda, ogni bottiglia che ricicliamo ci avvicina di un passo verso un mondo più sostenibile. Assolutamente. Facciamo del riciclo un'abitudine e incoraggiamo gli altri a fare lo stesso. Insieme possiamo apportare un cambiamento positivo. Ben detto. Diamo l'esempio e creiamo un futuro più verde per le generazioni a venire. Lasciati ispirare. Grazie, il tuo entusiasmo è contagioso. Lasciati ispirare anche tu e continuiamo a fare la differenza. lezione 16 alla scoperta di un paradiso per gli amanti della natura. Ciao Anna, ho sentito parlare di questo fantastico paradiso per gli amanti della natura. Sembra meraviglioso. Come possiamo arrivarci? Ciao John, esplorare un paradiso per gli amanti della natura sembra emozionante. Possiamo prendere in considerazione alcune opzioni per raggiungerlo. È fantastico. Quali sono le opzioni di trasporto a nostra disposizione? Beh, a seconda della posizione, potremmo arrivarci in auto se è accessibile dalla strada. In alternativa, possiamo verificare se ci sono aeroporti o stazioni ferroviarie nelle vicinanze. Capisco. Quindi, possiamo fare un viaggio in auto o optare per un viaggio in aereo o in treno per raggiungere il paradiso naturale. Esattamente. Se scegliamo di guidare, possiamo goderci il percorso panoramico e fare delle soste lungo il percorso. Sembra un'idea fantastica. Potremmo esplorare altre attrazioni naturali durante il nostro viaggio. Assolutamente. Se decidiamo di volare, possiamo cercare voli per l'aeroporto più vicino e poi organizzare il trasporto da lì. Questo ha senso. È importante pianificare il trasporto in anticipo per garantire un viaggio senza intoppi. Sicuramente. Inoltre, possiamo prendere in considerazione anche visite guidate o opzioni di trasporto pubblico disponibili nella zona. questo è un buon punto. Le visite guidate possono offrire spunti preziosi e rendere la nostra esperienza più arricchente. Sì, possono fornire informazioni sulla flora locale, sulla fauna e su altri aspetti interessanti del paradiso naturale. Sembra affascinante. Sarebbe bello saperne di più sulle meraviglie naturali che incontriamo. Assolutamente. Un'altra cosa da tenere a mente è verificare se sono necessari permessi o tasse di ingresso per accedere al paradiso naturale. Buon punto. È essenziale conoscere tutti i requisiti per evitare problemi dell'ultimo minuto. Sicuramente. Una volta che abbiamo tutte le informazioni necessarie, possiamo pianificare il nostro itinerario e sfruttare al massimo il nostro tempo nel paradiso naturale. Sembra un piano. La ricerca e la pianificazione anticipata ci aiuteranno a vivere un'esperienza memorabile e piacevole. Assolutamente. Assicuriamoci di mettere in valigia l'attrezzatura adeguata come scarpe comode, crema solare e repellente per insetti per goderci appieno il nostro tempo nel paradiso naturale. È un ottimo promemoria. Prepararsi con gli elementi essenziali giusti garantirà un'avventura comoda e sicura. sicuramente. Quindi, iniziamo a fare ricerche sul paradiso naturale, tracciamo il nostro percorso e prepariamoci per un viaggio incredibile. Sono emozionato. Entriamo nei dettagli e trasformiamo questa avventura nella natura in realtà. Non vedo l'ora di esplorare. Anch'io. Preparati per un'esperienza immersiva nel cuore della bellezza della natura. Sarà incredibile. Grazie il tuo entusiasmo è contagioso. Imbarchiamoci in questa avventura e creiamo ricordi indimenticabili. Lezione 17 Roma incantevole. Ciao Anna, vado in vacanza a Roma. non vedo l'ora di esplorare questa città storica. Qualche suggerimento? Ciao John. Roma è davvero incantevole. Ti aspetta una sorpresa. Per prima cosa, assicurati di visitare l'iconico Colosseo. colosseo è un monumento imperdibile. Cos'altro devo aggiungere al mio itinerario? da non perdere la città del Vaticano. La Basilica di San Pietro e la Cappella Sistina sono maestose. Assolutamente. La città del Vaticano è ricca di arte e storia. Mi assicurerò di visitare quei siti rinomati. Ottimo! Inoltre, esplora le pittoresche strade di Trastevere. È noto per la sua atmosfera affascinante e il cibo delizioso. Sembra delizioso. Non vedo l'ora di passeggiare per Trastevere e assaporare la cucina locale. Dovresti anche lanciare una moneta nella fontana di Trevi. La leggenda dice che assicura il tuo ritorno a Roma. È una tradizione divertente. Esprimerò un desiderio e lancerò una moneta nella fontana di Trevi come portafortuna. Eccellente! E non dimenticate di visitare il Pantheon, una struttura straordinaria con una magnifica cupola. Il Pantheon è sulla mia lista. La sua bellezza architettonica è qualcosa che non voglio perdermi. Un'altra raccomandazione è quella di esplorare il Foro Romano dove puoi immergerti nell'antica storia romana. Questo è affascinante. Mi prenderò del tempo per esplorare il Foro Romano e conoscerne il significato storico. Infine, concediti un autentico gelato italiano mentre passeggi per la città. È una delizia deliziosa. Assolutamente. Il gelato è un must a Roma. Mi assicurerò di provare diversi gusti durante la mia visita. Sembra meraviglioso. Roma offre una miscela perfetta di storia, cultura e delizie culinarie. Effettivamente. Ti sono grato per i tuoi consigli. Non vedo l'ora di vivere la magia di Roma. È un piacere per me. Goditi la tua vacanza e crea bellissimi ricordi nella città eterna. Grazie sfrutterò al massimo il mio tempo a Roma e mi immergerò nel suo fascino accattivante. Lezione 18 Esplorando il quartiere Ciao Anna, mi stavo chiedendo qualcosa su questo nuovo posto. Quanto dista da qui? Ciao John. È sempre emozionante esplorare nuovi posti. È a circa 5 minuti a piedi da qui. È fantastico. Una breve passeggiata rende comodo visitare e scoprire ciò che il quartiere ha da offrire. Assolutamente. Esplorare il quartiere ci permette di scoprire gemme nascoste e attrazioni e attrazioni e attrazioni locali. Sembra intrigante. Ci sono luoghi specifici che consigli di visitare? Sicuramente. C'è un'affascinante caffetteria proprio dietro l'angolo che serve deliziosi dolci e caffè speciali. sembra il posto perfetto per rilassarsi e godersi delle prelibatezze. Visiterò sicuramente la caffetteria. Ottima scelta un altro posto degno di nota è il parco locale con bellissimi sentieri e un lago sereno. sembra meraviglioso. Mi piace passare il tempo nella natura quindi il parco sarà una visita obbligata per me. Sono felice di sentirlo. La natura ha un modo per rinfrescare la nostra mente e ringiovanire il nostro spirito. Assolutamente. È importante fare delle pause e entrare in contatto con la natura durante le nostre vite frenetiche. Non potrei essere più d'accordo. Oltre a questi luoghi ci sono anche diverse boutique e gallerie d'arte nelle vicinanze. È fantastico. Esplorare i negozi e le gallerie locali mi darà la possibilità di apprezzare la creatività della comunità. Sicuramente. Sostenere le imprese e gli artisti locali è un ottimo modo per contribuire alla vitalità del quartiere. Non potrei essere più d'accordo. È importante promuovere il senso di comunità e apprezzare i talenti locali. Assolutamente. E se sei interessato alla storia c'è un piccolo museo a pochi isolati di distanza che mostra il patrimonio della zona. Questo è affascinante. Mi piace conoscere il passato e capire le radici di un luogo. Mi assicurerò di visitare anche il museo. È un ottimo piano. I musei offrono preziose informazioni sulla cultura e la storia di una regione. Non vedo l'ora di esplorare il quartiere adesso. Sembra che ci sia così tanto da vedere e da provare. Sono felice di sentirlo. Ricordati di prenderti il tuo tempo, di immergerti nell'ambiente circostante e di goderti ogni momento. grazie e i tuoi consigli hanno stuzzicato la mia curiosità e non vedo l'ora di imbarcarmi in questa avventura nel quartiere. Siete i benvenuti. Goditi la tua esplorazione e sono sicuro che scoprirai cose incredibili lungo la strada. Apprezzo il tuo entusiasmo. Mi assicurerò di condividere le mie esperienze con te. Che l'avventura abbia inizio. Non vedo l'ora di sapere tutto. Buon viaggio e divertitevi a esplorare il quartiere. Buone scoperte! Grazie ti terrò aggiornato. Fino ad allora abbi cura di te e a presto. Lezione 19 Prenotazione anticipata Ciao Anna sto pensando di fare un viaggio. È meglio prenotare in anticipo? Ciao John Sì è sempre una buona idea prenotare in anticipo. Sono disponibili molte opzioni convenienti. Questo ha senso. Prenotare in anticipo ci assicura più scelte e possiamo assicurarci le migliori offerte. Assolutamente! Ci dà anche la tranquillità di sapere che i nostri alloggi e gli altri arrangiamenti sono curati. Sono d'accordo elimina lo stress della pianificazione dell'ultimo minuto e ci consente di concentrarci sul goderci il viaggio. Sicuramente! Prenotare in anticipo ci aiuta anche a evitare delusioni se i luoghi che vogliamo visitare sono al completo. Questo è un ottimo punto. Soprattutto per le attrazioni o gli eventi più popolari è importante assicurarsi i biglietti o le prenotazioni in anticipo. Sì, alcuni posti hanno una disponibilità limitata quindi è meglio pianificare in anticipo per evitare di perdere le esperienze che desideriamo. Capisco. Prenotando in anticipo possiamo garantire un'esperienza di viaggio più fluida e organizzata. Esattamente. Si applica non solo agli alloggi ma anche alle attività ai tour e persino ai trasporti. Questo è vero. È utile pianificare e prenotare tutto in anticipo per sfruttare al massimo il nostro tempo e le nostre risorse. Inoltre prenotare in anticipo ci consente di confrontare i prezzi e trovare le migliori offerte o sconti. Questo è un grande vantaggio. Possiamo dedicare del tempo alla ricerca e alla scelta delle opzioni più convenienti. Sì, è sempre gratificante trovare opzioni convenienti che si adattino al nostro budget senza compromettere la qualità. assolutamente. Prenotare in anticipo ci dà l'opportunità di essere proattivi e prendere decisioni informate. Inoltre, ci consente di apportare le modifiche o le modifiche necessarie ai nostri piani se necessario. Questo è un buon punto. La flessibilità è importante e prenotare in anticipo ci offre maggiore flessibilità nell'apportare modifiche. Sicuramente. Quindi, che si tratti di alloggi, attività o trasporti, è consigliabile pianificare in anticipo e garantire le nostre prenotazioni. Sono completamente d'accordo. È meglio essere preparati e avere tutto a posto prima di intraprendere il nostro viaggio. Assolutamente. La prenotazione anticipata pone le basi per un'esperienza di viaggio fluida e piacevole. Grazie per aver sottolineato l'importanza di prenotare in anticipo. Mi assicurerò di pianificare e garantire le mie prenotazioni in anticipo. Siete i benvenuti. sono lieto di esserti stato utile. Buon viaggio e divertiti esplorando nuovi posti. Apprezzo la tua guida. Farò i preparativi necessari e non vedo l'ora di iniziare un viaggio memorabile. di iniziare di iniziare di iniziare a di iniziare a di iniziare a di iniziare